Un saluto dal Tg della mobilità. Una zona di massima sicurezza di 10 km2, tiratori scelti sui tetti, un'area con divieto di sorvolo, sono alcune delle misure straordinarie previste per il vertice dei capi di Stato e di Governo dei paesi del G20 in programma a Roma nel quartiere Eur, sabato e domenica. Il centro delle riunioni sarà l'edificio della nuvola. L'imponente dispositivo di sicurezza avrà effetti sulla mobilità. Già domani i primi divieti di sosta in Viale Europa, in Viale Asia, in Viale Shakespeare e sulla laterale della Colombo tra Viale Europa e Viale Asia. Divieti e chiusure nei prossimi giorni interesseranno anche le strade del centro, il quartiere Parioli e l'area del Vaticano. Le misure di sicurezza prevedono poi la chiusura di alcune fermate della metropolitana nei giorni del vertice, le stazioni della metro B di Eur Magliana, Eur Palasport, Eur Fermi, Laurentina e la stazione Repubblica della metro A. Nei giorni del vertice non mancheranno le piazze della protesta, sabato pomeriggio un corteo da piramide a Bocca della Verità e poi un sit-in a Piazza San Giovanni. Appuntamenti che avranno ulteriori riflessi sulla mobilità, ma tutti gli aggiornamenti da oggi a domenica si potranno seguire sul sito romamobilita.it Appuntamenti che avranno ulteriori riflessi sulla mobilità, ma tutti gli aggiornamenti da oggi a domenica si potranno seguire sul sito romamobilità, ma tutti gli aggiornamenti da oggi a domenica si potranno seguire sul sito romamobilità.it